Finisce con una vittoria per 3-7-1 la partita di questa sera, una bella vittoria, importante, ti chiedo quanto morale vi dà la vittoria di questa sera? Ci dà una carica incredibile, soprattutto perché abbiamo iniziato molto bene il campionato di andata, poi ci siamo un po' perse per strada e abbiamo cercato con il ritorno di riprendere dove avevamo lasciato e quindi stiamo recuperando la grande, quindi questa vittoria ci dà una carica incredibile e quello che vogliamo fare è continuare così anche per le prossime. Sì esatto, nella prossima partita affronterete il Santio Stefano, una vostra diretta conoscenza, direi. Ti chiedo come preparerete questa sfida delicata dato che siete anche vicini di punteggio? Allora, proveremo come abbiamo sempre fatto, cioè con lo spirito di squadra, con la voglia di vincere, ovviamente la preparazione è quella tecnica e quella è ovviamente alla base, ma per vincere con una squadra come il Santio Stefano quello che serve è quello che abbiamo avuto stasera, cioè la grinta e la voglia di vincere, quindi sarà soprattutto una partita molto psicologica. Sì, oggi è arrivata una bella vittoria, però ti chiedo, secondo te quali sono gli aspetti che comunque dovete migliorare nel vostro gioco per dare magari più continuità ai risultati? Noi abbiamo, diciamo, un punto di forza, il ritmo, la forza, la voglia di vincere, quindi quando c'è quello non ci ferma più nessuno. Poi abbiamo questi momenti di blackout in cui magari non riusciamo a essere ordinati in campo, a essere precise, in cui ci perdiamo un po' e su questo effettivamente dobbiamo molto migliorare. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo, ciao! Grazie, ciao!